Avvicinatevi per favore Venite tutti Adesso vi mostrerò Come uno chef guarnisce un piatto Muerta Andate tutti a lavorare, io mi vado preparare Il vaso? Di il vaso? Quello di cristallo con le pasticche, lo volevo qua sopra, l'hai dimenticato? Vado subito a prenderlo Che vuoi dire? L'ho lasciato nella stanza degli ospiti Dove si trova Enzo? L'ho lasciato